Sono molto contento e onorato di aver potuto svolgere il ruolo di coordinatore scientifico per la quinta edizione del nostro congresso annuale Cocktail with Science. Anche questo anno, come i precedenti anni, abbiamo avuto una qualità e una facoltà a mio parere veramente eccezionale. La qualità delle relazioni è stata di livello eccesso, c'è stata la possibilità di poter confrontarsi con degli opinion leader importanti a livello globale e soprattutto c'è stata la possibilità per i giovani presenti a corsi numerosi al congresso di potersi confrontare con queste grandi menti dell'oncologia mondiale e c'è stata la possibilità per i giovani, sia presenti in sede, qui nella sede congressuale, sia collegati online, di poter fare delle domande e di avere proprio un contatto diretto che a mio avviso è importantissimo per far nascere l'amore per la scienza e per tecnologia che è alla base poi di tutti i progressi che ci saranno sicuramente nei prossimi anni. Sono sicuro che l'evento si rinnoverà nei prossimi anni, spero di poterci essere ancora io come coordinatore scientifico, ma in ogni caso l'evento ci sarà sicuramente. Vi ringrazio per l'attenzione.